Il film che state per vedere è estremamente sgradevole. In questa storia non solo non c'è un lieto fine, non c'è neanche un lieto inizio. Violet, la più grande, era una delle più brillanti inventrici quattordicenni del mondo. Klaus, il mezzano, adorava i libri. A Sanni, la minore, piaceva mordere gli oggetti. Ragazzi, temo di dovervi informare di un evento estremamente sfortunato. Nessuno conosce l'esatta causa dell'incendio dai Baudelaire. Ma in un baleno, i ragazzi Baudelaire divennero gli orfani Baudelaire. E per quanto sfortunata apparisse la loro situazione, stava solo per peggiorare. Io sono il vostro beneamato conte Olaf. Non vi chiedo altro che fare ogni singola cosetta che mi salta in testa, mentre io mi godo l'enorme fortuna che i vostri hanno lasciato. Violet, cosa ci facciamo qui? Magari all'inizio lui non fa una buona impressione. Siete invitati a scoprire... Di qua, per la stanza delle Serpi. Wow. ...un mondo costruito dall'immaginazione e costellato di una serie di sfortunati eventi. DreamWorks Pictures e Paramount Pictures presentano... Jim Carrey, Jim Carrey e Jim Carrey. Lemony Sneaket, una serie di sfortunati eventi. Ora che siamo una famiglia, sarò il massimo dei papà. Siamo molto in ansia. Grazie a tutti.